Buongiorno, oggi c'è una bella novella. E a bocchiaccia mia ci tiene a fare gli auguri, tanti auguri, cento di quel giorno, no, cento di questi giorni, cento di quel giorno e il giorno è il 14 giugno 2017. Poi a parte vi spiegherò di chi è una giornata meravigliosa quel 14 giugno 2017. A più tardi ma per ora tanti auguri a te, tanti auguri a te.